Ciao, buono ragazzi, buono i capoli e benvenuti in questo nuovo video Lecce Juventus 0-1, ragazzi, 3 punti firmati Niccolò Fagioli Niccolò Fagioli, 3 punti, 3 punti, siamo risuscitati Siamo risuscitati con merito, vinto una partita che sembrava dal primo tempo difficile Nel secondo tempo siamo rientrati, abbiamo giocato bene Eventualmente l'ha messa nel setto, palo, gol E quelli erano i due punti che ci servivano, dimenticate la Champions Pensiamo a qualificazione dell'Europa League Che se giochiamo così in Europa League, dove mettiamo palle nel set La vinciamo ragazzi, contentissimo, contentissimo Niccolò Fagioli, primo tempo che sembrava un po' traballante Lecce qualche occasione l'ha avuta, secondo tempo eravamo totalmente cambiati Eventualmente ragazzi il gol l'abbiamo fatto, contentissimo 3 punti, 3 punti che ci mettono al momento sesti L'Inter ovviamente stasera gioca contro la Sampdoria Se vince purtroppo ci sorpassa ancora ragazzi Però quello che vale è che abbiamo preso dei punti Ovviamente per lo scontro diretto la settimana prossima contro l'Inter Ragazzi quello è da vincere, spacchiamogli la faccia ragazzi Perché di questo passo il posto in Champions per l'anno prossimo è ancora garantito Ragazzi è ancora garantito se finiamo quarti Quarti ragazzi è ancora possibile Terzi, quarti ragazzi basta che finiamo Tra le mie quattro giocando in questo modo è ancora possibile ragazzi È ancora possibile, contentissimo Anche con un po' di difficoltà vinciamo sempre Anche con una piccola difficoltà Il piccolo pizzico di fortuna Niente è possibile ragazzi, niente è impossibile Comunque ragazzi noi ci becchiamo ovviamente nel prossimo video Commentate, iscrivetevi al canale, contentissimo 3 punti 3 punti ragazzi In primo tempo ovviamente un po' traballante Però quello che conta è che abbiamo vinto ragazzi Contentissimo, adesso ovviamente è mezzo contro il PSG E poi lo scontro diretto contro l'Inter Due partite difficili Ma se ci crediamo ragazzi possiamo vingerne entrambe E comunque andare in Europa League E forse, dico forse, vincere anche se ci svegliamo veramente Però ragazzi contentissimo Noi ci becchiamo nel prossimo video Cioè ragazzi fino alla fine Sempre sulla Forza Juventus E anche onora la curva assoluta Ragazzi ci becchiamo Cioè ragazzi sempre sulla Forza Juve Fino alla fine ragazzi siamo tornati Firmati Nicolo Fagioli Ciao ragazzi